Festività di Pasqua e Ponte del 25 aprile e primo maggio all'insegna della cultura e dell'arte anche sul territorio del Ballo di Diano. È prevista l'apertura delle principali chiese del Centro Storico Medievale di Teggiano che resteranno visitabili per mezza giornata nei prossimi giorni festivi. Aperti anche il Museo di Cesano di San Pietro, il Museo delle Arti e delle Tradizioni Popolari e il Museo delle Erbe e delle Antiche Coltivazioni. Il Museo di San Pietro racconta la storia civile e religiosa di Teggiano e della sua diocesi, rappresentata in una delle chiese più antiche della città vescovile, sorta sui resti di un tempio romano di cui rimane il podio esterno. Nei prossimi giorni festivi si potrà visitare nel Vallo di Diano anche il Museo archeologico della Lucania occidentale a Padula. Il 22 aprile sarà aperto dalle 9 alle 14, il 25 aprile e primo maggio dalle 9 alle 18 e 45. L'apertura straordinaria è stata disposta dalla provincia di Salerno, che ha previsto l'apertura di tutti i musei provinciali, ad eccezione dell'archeologico dell'Agro Nocerino e dell'area archeologica di Fratte. Il Museo archeologico provinciale della Lucania occidentale ha sede nella Certosa di San Lorenzo a Padula e conserva esposti numerosi reperti archeologici rinvenuti nella Valle del Tanagro tra tombe, lapidi, statue, capitelli e colonne. Il museo è nato nel 1957 proprio per raccogliere, conservare e catalogare i ricchi reperti provenienti dagli scavi eseguiti dalla direzione dei musei provinciali di Salerno tra le città di Sala Consilina e Padula con circa 1500 tombe scoperte ed esplorate.